il problema con le cosce così non può venire male no? sta venendo bene? teoria cioè il problema sono le cosce perché io lo sento chiuso sulle cosce la mia pazienza è qua ma il fatto è che cose hanno una luce per vedere se è chiusa come fanno a vedere se è chiusa? si c'è una lucina dietro c'è la regina madonna che merda sta protezione non mi tocca adesso se hai le gambe sottili evidentemente ma che cazzo è? ce n'è un po' dai è meglio in prima fila ok 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 che cazzo è un po' dai ok 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 ho capito ho capito ho capito no allora la prima metà fa schifo in ultima fila ma è meglio l'ultima parte invece in prima fila e viceversa però comunque anche l'ultima hill si sente bene anche qua e anche la discesa nei freni la discesa nei freni è inesistente è la discesa nei freni che perde in prima fila ma il resto è buono si però sei un 5 a 1 cioè hai prime due hill turn around va bene non fa un cazzo la terza hill entrata nei freni uscita nei freni e poi roba in mezzo che ce l'ha sei 5 a 1 per la prima fila è meglio la prima fila che bello ho pure ripreso questa discussione può fare solo la 5 ma io pure che veramente più che altro perché se ti spingono così ti fai male e io ho visto gente mandata via quindi comunque con una giornata così è platinabile facciamo prima dobbiamo finire tutto dopo possiamo cominciare a platinare qualcosa tra oggi tra la fine di oggi e domani 36 giri su silver star mi addorment esatto madonna questo adesso questa drop sarà proprio dormiamo un pochino secondo me su questo riesci a fare la challenge che ti bevi il caffè si può essere o anche a mangiare mangiare si l'ho fatto su stamp pilot la voglia che devo farsi questo dovremmo continuare a condurre delle discussioni che bello 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 questo è la piacevo eh anche questo credo si e forse anche questo Eh, eh dai, passami dai! Cos'è quella botta di lateral finali? Vabbè... Ti rendi conto che è la prima volta che io... Perché le fai male? Abbondare è meglio che di fishere! E' curioso di vedere i nomi dei piloti sul tabellone. Vedersi sul reality. Abbiamo abbandonato il nostro amichetto Vodan per troppo tempo, comunque. Si sarà offeso. Svegliami quando è finito. Cos'è che abbiamo finito? Svegliami quando abbiamo finito. Va bene. Ma ha finito la ride o ha finito la lift? Va bene. Per un attimo pensavo si fermassi. Quitté. 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 No, no, no! Ma perché sei venuti a farlo di nuovo? T'ammazzo, cioè, t'ammazzo malissimo. Mi ha fastidio la gente che urla a caso, è proprio fastidioso, non capisco il senso. Cosa, tu urli per lei, sta volando via! Grazie a tutti!